I presunti autori delle violenze di Caivano da oggi hanno dei nomi e dei cognomi. Stamattina all'alba un'operazione Lampo dei Carabinieri ha dato esecuzione alle misure cautelari emesse dalla procura di Napoli Nord e dalla procura per i minorenni di Napoli, per i fatti avvenuti all'interno del Parco Verde. Quegli orrori reiterati nel tempo che avevano avuto come vittime due giovanissime cuginette di 10 e 12 anni. Nove le misure firmate rispettivamente dalle procuratrici della Repubblica, Maria De Luzemberger e Maria Antonietta Troncune, sette delle quali sono rivolte ad altrettanti minori, presunti membri del gruppo che avrebbe adescato e violentato le bambine all'interno della palestra abbandonata del Parco Verde, la Delfinia, come anche in diverse altre occasioni. A fare ulteriore chiarezza sui dettagli del caso, la conferenza stampa annunciata con una nota dell'arma all'interno della procura di Napoli Nord.